La gara delle gare più interessanti di tutti i nuovi gironi di Serie D, l'Avagnese Ponsacco si gioca a sabato 28 a Ribul ed è sfida tra le due capolista del girone, prima pari punti a quota 18, gara bloccata in Assano, inizia un pomeriggio che lo vedrà eroe di giornata andando a smanacciare in corner dalla sinistra. La risposta a Tigullin arriva con questo missile terra aria di Raggio Garibaldi che non scende terminando alto sulla porta difesa da Cirelli, primo tempo avaro di emozioni trend che continua nella ripresa nonostante la premessa di questa conclusione di croce da fuori area possa far presagire il contrario, il match invece si arena a centrocampo ma nel finale esce il Ponsacco ma esce anche Nassano, l'ex Entella alza in angolo un bolide di Pellegrini a 10 minuti dal termine sul corner che ne consegue per Monaco di Termoni, è troppo affettuoso la braccia in aria di Fonjok a un giocatore toscano dal dischetto però, capitando veri si fa ipnotizzare da Nassano che blinda lo 0-0 anche se alla festa in cima alla graduatoria si è aggiunta la Sanremese.